E chiaramente ragazzi se vogliamo parlare di acciai ad un certo livello bisogna studiare parecchio per cui prendiamo un attimo un po' una licenza tra di noi per occuparci di acciai il tanto che basta per capire le differenze e insomma quello che ci serve per saper scegliere il nostro prossimo coltello. Dicevamo oggi S35VN e se leggete attentamente prima di S35VN c'è scritto CPM che significa Crucible Powder Material e cioè un acciaio da polveri ok un materiale derivato dalle polveri. Prima però di iniziare con l'acciaio siccome la discussione potrebbe essere lunga è meglio passare in pasticceria. Cos'ha in comune la pasticceria con gli acciai? Beh in entrambi i mestieri si mettono insieme degli ingredienti per poi trasformarli con il calore. Diciamo così fatemi passare un attimo questo esempio. Sono trascorse da pochissimo le feste e di sicuro avrete mangiato degli ottimi panettoni. Se guardate gli ingredienti del panettone beh è chiaro che li sono distribuiti in un certo modo. Ci sono le uvette, sì ci sono i canditi, sì ci sono anche le bolle d'aria che non sono tutte uguali. Se vi fermate un attimo a pensare la struttura di un panettone, di una fetta di panettone spero abbiate avuto anche il tempo di guardarle e non solo di mangiarle immediatamente ma una fetta di un lievitato ha questa struttura alveolare molto irregolare. Sì certo c'è una regolarità ma avete notato di sicuro delle bolle enormi, delle bolle più piccole eccetera. Ecco il panettone, quello fatto così irregolare, fatto un po' come l'abbiamo visto nelle nostre tavole beh possiamo assimilarlo agli acciai classici. Possiamo chiaramente immaginare gli acciai classici fatti in questo modo perché cosa si fa? Si prende del, si prendono dei componenti, si prendono degli ingredienti, si fanno sciogliere un po' tutti insieme e si amalgamano, si mischiano insieme. È quello che si fa in pasticceria quando si prepara appunto il panettone. Se però pensiamo ad un altro dolce che più o meno ha gli stessi ingredienti di un panettone ed è completamente diverso nella struttura beh pensiamo a un saccottino, un cornetto dove gli ingredienti sono stratificati per guadagnare non da un'amalgama generale ma da una stratificazione. Proprio qualche giorno fa parlavamo dell'SRK in San Mai, questi acciai compositi che hanno un acciaio duro al centro e due barre di acciaio morbido ai lati per guadagnare le caratteristiche di un acciaio duro dove serve e le flessibilità di un acciaio morbido dove serve. Potreste avere presente anche dei coltelli di tipo damasco. L'acciaio damasco è bellissimo però una delle cose che si vede proprio ad occhio nudo è che ci sono diversi tipi di materiali stratificati, ripiegati sopra, è proprio come un cornetto ragazzi. Il nostro pasticcere quando prepara il cornetto utilizza un impasto lievitato e lo sfoglia col burro come se fosse una sfoglia. Ecco spiegata la croccantezza magari esterna e la morbidezza e la bontà interna. Ora mi sta facendo fame ma devo ancora farvi l'ultimo esempio, l'esempio di pasticceria che ci porterà a capire gli acciai da polveri e cioè i frollini. Se volete nei frollini tutti gli ingredienti sono più o meno gli stessi del panettone, più o meno gli stessi del cornetto, ma lavorati diversamente, ci danno una struttura molto omogenea. Diciamo che un biscotto fatto bene, in qualunque punto io lo rompa, vedo sempre gli stessi ingredienti, vedo sempre la stessa struttura. Non è la stessa cosa col cornetto che, sapete, no, è croccante da una parte, morbido dall'altra e anche questo è il buono per carità, sono d'accordo. Non è sicuramente lo stesso con il panettone. Quindi ripassiamo dal forno alla fornace. Gli stessi ingredienti che servivano per fare l'acciaio, che prima erano mescolati in modo, dai, casuale, cercando di mescolarli in modo omogeneo, da fusi, oppure che venivano mescolati in modo sapiente, stratificati, li utilizzeremo in polvere. Ecco la grande innovazione degli acciai da polvere. E perché tutto questo sforzo, allora, per costruire il nostro frollino o il nostro preparato di acciaio in polvere? Beh, ragazzi, tutto questo sforzo è necessario proprio per ottenere una struttura omogenea. Chiunque ha avuto a che fare con gli acciai sa che la più grande debolezza degli acciai è la possibilità di includere delle imperfezioni strutturali. Tra poco entreremo nel dettaglio di questo discorso, però vi invito a fermarvi un attimo e a fissare questa idea in mente. Avevamo degli ingredienti nell'acciaio classico, nell'acciaio che si è sempre fatto, mescolati a chiare in qualche modo da fusi, che però rischiano di farvi trovare delle concentrazioni diverse di quell'ingrediente iniziale, come succedeva col panettone, il chicco d'uvetta o la bolla d'aria che si forma di più solo in un punto. Quindi adesso tenete sempre in mente questi tre dolcetti mentre proseguiamo nel capire come si ottiene la polvere di metallo. Ok, adesso devo tagliare qualche curva, altrimenti diventa un seminario sulla metallurgia. La cosa da capire è questa. Viene fuso il materiale e mentre viene colato in un tubo, facciamo in una camera, in quello che vi pare, viene spruzzata dell'acqua o dell'aria che lo trasforma in tante piccole parti che si solidificano e cadono. E quindi questo materiale che precipita questi pezzettini minuscoli di materiale sono lì pronti per le prossime fasi. Ora sappiamo che abbiamo in polvere tutti gli ingredienti per costruire un ottimo acciaio e quindi non aspetteremo di fonderli per poi mixarli, ma li mixeremo in questo momento, quando sono in polvere. A questo punto si aggiunge della cera o del lubrificante che servirà solo per tenerli un po' più compatti perché l'operazione che si fa dopo con la polvere dell'acciaio è la stampa. Sì, proprio come i biscotti. Viene stampato, beh, proprio come i biscotti no, più come le compresse che comprate in farmacia, no? La polverina viene stampata a pressione in degli stampi e questo, con l'aiuto della cera o del lubrificante che avevano messo all'inizio, produrrà un pezzo che è quello che potrebbe essere nelle vostre automobili. Anzi, se guardate il cambio della vostra macchina troverete un sacco di pezzi fatti in questo modo. Nella meccanica industriale è comunissimo produrre pezzi complessi in questo modo. Ma la polvere d'acciaio adesso si mantiene insieme solo per il lubrificante, solo per le cere che hanno inserito, ok? Non c'è niente di forte che le tiene. Se io prendessi un pezzo appena stampato e mi mettessi a giocare così, lo romperei senza problemi. Eppure non sono ulc. E spero si veda, qui ho preso un po' di spugna, perché i pezzi del metallo sono irregolari. Questa polvere in realtà, noi la vediamo come polvere, ma non è che siamo proprio delle palline precise, sono tutti pezzetti, granelli di metalli e altri ingredienti. E la pressione che esercita lo stampo, vedete come succede con la spugna, determinerà la densità del materiale e quindi la porosità del pezzo finale. Questo è un altro aspetto interessante su come si producono gli acciai da polvere. Più lo schiaccio è, più diventa denso. Ora che il pezzo è formato, grazie alla pressione a lubrificanti, nel nostro caso dei coltelli saranno delle barre, che poi utilizzeranno per fare il coltello appunto, una volta che la barra è formata, beh ragazzi, possiamo passarla al forno. E già, di nuovo come i biscotti. Il forno, che spesso è un forno a tunnel, lavorerà per fasi. E quindi nella prima fase andranno via i lubrificanti, servirà per far bruciare ed evaporare i lubrificanti, che, attenzione, lasceranno un po' di spazio tra i granelli. Non dimenticate questo aspetto. Però, proprio grazie alla pressione che avevamo applicato all'inizio, questi granelli saranno sempre più compatti. La seconda fase, è davvero molto importante, si chiama sinterizzazione. E cioè le polveri tra di loro, questi granelli tra di loro, si saldano. Si salderanno tra le superfici di contatto e formeranno un unico pezzo d'acciaio, che ha la stessa forma che gli avevamo dato. Nella terza fase, il pezzo si raffredda. Ma si raffredda con calma, seguendo i suoi tempi particolari, e in un'atmosfera spesso controllata, per evitare che l'ossigeno o altri elementi entrino in contatto con il metallo e provochino fenomeni di ossidazione o inclusioni, che noi non vogliamo. Questa operazione di raffreddare il pezzo d'acciaio con un sistema controllato di temperatura, beh, è quello che permette anche la formazione delle microstrutture cristalline della Lega. Allora, per capire questa cosa, che poi alla fine ha a che vedere parecchio con la tempra anche dei coltelli, vi faccio vedere un esperimento. E cioè come congela una bolla di sapone. La bolla di sapone, quando congela, comincia a congelare in diversi punti. Il cristallo di ghiaccio, i cristalli di ghiaccio, iniziano a formarsi su diversi punti della bolla. E ognuno, ognuna di queste formazioni, ognuna di queste nucleazioni, beh, inizia con una sua direzione prestabilita, preferita, incontrando poi gli altri cristalli che avevano iniziato a formarsi in un'altra direzione. Nel metallo che significa questo? Ma come è fatto un cristallo, lo sapete tutti, no? Un cristallo lavora molto bene se è compresso, se è tirato, ma lavora molto male se è fatto a pezzi, se è aperto, perché c'ha una direzione preferenziale di dove è più forte, dove è più resistente. Nel metallo, se prendiamo un coltello e immaginiamo per un attimo, permettetemi l'iperbole, un grandissimo cristallo in questa direzione, beh, è chiaro che al primo colpo questo cristallo si rompe e mi si spezza la lama. Mentre, quello che stiamo cercando di realizzare noi con la tempra è la formazione controllata di tanti piccoli cristalli, ognuno in una direzione diversa. Questo ci consentirà di avere una lama performante su tutte le direzioni e eviterà dei punti di agglomerati di cristalli troppo grandi che poi diventano punti di fragilità sulla lama stessa. E quindi torniamo agli acciai da polveri. Proprio perché la mescola che abbiamo costruito all'inizio era davvero molto regolare rispetto alle miscele costruite da metalli liquidi, beh, siccome è molto regolare, non ci sono concentrazioni né di impurità né di materiali diversi tra di loro. Quindi abbiamo proprio una struttura come un frollino tutta uguale da tutte le parti. E quando applicheremo la tempra, e qui la vera differenza, quando applicheremo la tempra sarà efficace su tutto il pezzo che abbiamo costruito. Quindi tutte le proprietà del metallo saranno omogenee. Le temperature, i cristalli, la formazione, la solidificazione, la nucleazione del metallo avverrà tutta allo stesso modo. Chiaramente se parliamo di coltelli, l'operazione di tempra va poi rifatta dall'artigiano o dal produttore di coltelli perché il coltello durante la lavorazione va anche ad alte temperature e quindi va un po' ritemprato, va temprato a seconda della destinazione finale di quel pezzo. Infatti è il processo di tempra finale. Quando mi sentite dire N690 temprato secondo la ricetta di Extrema Ratio o parlare degli acciai sammai di Colstil, perché è importante questo aspetto qui? Perché ragazzi, l'acciaio è appunto l'ingrediente iniziale del coltello. Dopodiché c'è la geometria, le forme e la tempra. Non si può parlare di questi tre elementi su un coltello in maniera separata. Cioè non posso dire così, perché mi va, che un coltello in S35VN è superiore ad uno in N690. Perché dipende da cosa ho realizzato io con quell'acciaio, da come l'ho trattato. E quindi dipende, ecco, dov'è la bravura del produttore? Non è nelle sigle dell'acciaio, la bravura del produttore è sicuramente nell'abbinare geometria, acciaio e trattamento termico. Se queste tre cose sono fatte bene, se queste tre scelte sono fatte benissimo, noi avremo poi un ottimo coltello. o perlomeno un'ottima lama, perché poi sappiamo che c'è anche il manico e il fodero. Però è importante sapere quali sono i passaggi e quante sono le cose che bisogna capire di un coltello se vogliamo entrare un po' più nel tecnico. Ed è sempre questo il motivo per cui io non sono un grande fan degli acciai. Perché non basta nominarmi una sigla per rendermi felice. Bisogna capire se quell'acciaio è stato inserito nella geometria giusta e se poi il trattamento termico finale, la tempra finale, è stata fatta a regola d'arte. Ma di questo potete rendervene conto voi anche in base all'utilizzo del coltello. Eh sì, perché un coltello che riceve dei colpi è diverso da un coltello che invece deve operare una forza costante. Un coltello che ha una lama lunga è diverso da uno che ha una lama corta, una punta clip point, è diversa da una punta tanto. Quindi non ci sono scorciatoie e se volete davvero capire quello che state comprando beh bisogna un po' applicarsi, bisogna un po' studiare. Forse qui non arriveremo ai grandi livelli della metallurgia accademica però mi piace entrare un pochino più nel dettaglio con voi e mi piace esplorare insieme a voi queste cosette che ci fanno capire bene cosa stiamo comprando e come possiamo utilizzarlo. E quindi piano piano con l'aumentare del catalogo di Blade Pack scopriremo nuovi acciai e nuove cose di cui dobbiamo fermarci a parlare un po' a parte che però poi ci tornano utili con tutta una serie di prodotti che troviamo in commercio. E adesso che abbiamo steso un po' la base di un discorso generale occupiamoci di preciso dell'S35VN. È un acciaio prodotto e brevettato dalla Crucible Industries a Syracuse vicino New York ragazzi è un'azienda questa che ha più di un secolo di storia e migliaia di brevetti su acciai particolari pensate solo che per un po' sono stati anche proprietà della Colt quelli delle pistole sì e nel 2004 entrano anche finalmente nel mercato dell'acciaio per coltelleria l'S35VN è l'evoluzione dell'S30V che forse avete visto su alcuni Leatherman più costosi la ricetta di quest'acciaio dai vediamo i componenti per capire per quale motivo sono fatti in questo modo beh ha ben l'1,4% di carbonio e questo serve per aumentarne la durezza basti pensare che se troviamo più del 2% di carbonio in una lega beh inizieremo chiamarla ghisa quindi molto dura ma anche molto fragile poi troviamo ben il 14% di cromo che ne aumenta la resistenza alla corrosione e la durezza questo è un aspetto fondamentale nei coltelli forse uno dei più importanti un 3% di vanadio aumenterà la densità della lega vi ricordate ne parlavamo di questa cosa di avere una lega densa che è fondamentale e un 2% di molibdeno aumenterà la resistenza all'usura è la tenuta della lama in combinazione però col carbonio e sì perché tutti questi ingredienti da soli aggiungono qualcosa ma quando li combini sapientemente insieme la potenzialità esplode ok quindi è la combinazione di questi ingredienti che farà poi il risultato finale aggiungiamo anche uno 0,5% di niobio perché no e il niobio insieme a carbonio rende la lega piuttosto dal 15 al 20% quindi in conclusione giusto per avere anche dei metri di paragone un po' più pratici l'S35VN supera per tenuta del filo il 440C e il D2 ok questo giusto per avere un'idea ma dopo tutto questo parlare di acciai sono sicuro vorrete un SR1 e vi ricordo che potete acquistarlo anche a rate senza interessi e senza burocrazia grazie a tutti